Grazie a tutti. E io ho cercato di contraccambiarlo a mia maniera. Francesco ha spiegato in fondo quello che dobbiamo rimproverarci tutti e due. Durante l'anno abbiamo fatto parecchie corse, non tanto cercando di vincere o di farle bene, ma cercando di uno farle perdere all'altro. Questo penso che sia una cosa che non va bene, quindi è la cosa maggiore che dobbiamo rimproverarci tutti e due. C'è qualcosa che vi unisce? Avete cioè qualcosa in comune dal punto di vista caratteriale? Beh, direi la voglia di vincere. Sì, la voglia di vincere e l'aggressività, ecco, questo penso che sia un componente del nostro carattere. I mondiali di Praga, è filato veramente tutto liscio Beppe? Beh, si finisce sempre qui. D'altra parte è una delle corse più importanti, quindi così a distanza di tempo, dopo averci pensato bene, è chiaro che degli sbagli se ne fatti, se ne fatti tutti, li ho fatti io, li hanno fatti magari anche gli altri. Comunque penso che sia inutile andare a trovare altre storie e penso sia più importante pensare al futuro. Gli sbagli e non so, tutto quello che c'era, credo che era a monte del campionato del mondo, non era lì nel giorno. Si sa che se due persone non vanno d'accordo è difficile per un giorno in un anno poi metterle d'accordo. C'è di mezzo la squadra azzurra, ma quando vince il corridore il giorno dopo corre per la sua squadra, corre per una squadra individuale che non è sicuramente la squadra azzurra, quindi i meriti sono tutti i suoi e non si ricorda più niente a nessuno. Questo è uno dei problemi della squadra azzurra, quindi sicuramente le formule dei mondiali cambieranno per trovare sistemi più moderni. Tra noi due ci potrebbe dire ipotizzare una condotta di gara, proprio come ho detto prima, per vincere e poi che vinca il migliore, insomma come dovrebbe essere nello sport, solo che ci sono tanti interessi, ci sono tanti fini che ognuno vuole raggiungere. Quando nel ciclismo arriveremo a comprare e vendere le corse e ad avere degli accordi, allora sicuramente non sarà fatto più per me ma neanche per gli sportivi perché si sentirebbero un po' traditi da queste cose. D'accordo, per concludere un'ultima cosa, fuori dai denti, tra i due, chi è stato maggiormente danneggiato da questa rivalità? Beh non si può dire perché, come si fa a sapere come andrebbero a finire le corse? Francesco? Beh, dal mio punto di vista, considerando le doti che abbiamo sia uno che l'altro, più danneggiato ne è uscito Giuseppe perché penso che lui arrivando anche certe volte, rischiando di arrivare in volata, potrebbe vincere molte più volte di me. Solamente che tante volte bisogna anche che ci sia la squadra che ti spalleggia e quando manca quella, uno da solo contro un gruppo non è che possa fare molto. Perché noi abbiamo la nostra polemica e gli altri sono là pronti a aspettare il momento per approfittare insomma di questo. Sì, effettivamente è vero. Chiaro che se io arrivo in un finale di corse in un gruppetto o coi primi sicuramente ho un po' più di possibilità, essendo più veloce. Quindi, teoricamente, sono stato il più svantaggiato. Comunque, ripeto, le corse si vincono sempre sull'arrivo, quindi è difficile stabilire prima. Bene, per concludere, sarà retorico, sarà ormai usuale? Almeno per quest'inverno, 1981-82, fino alla Iguelia, fino magari alla 6 giorni di Milano, vi date la mano? Fate pace? Pace è naturalmente simbolica perché poi qualcuno dice sempre che siete dei grandi amiconi. Beh, adesso è chiaro che giù da bicicletta siamo amici perché sarebbe stupido essere nemici. Comunque, quando siamo in bicicletta siamo degli atleti e ognuno corre per vincere.